Ciao ragazze, buon pomeriggio, nuovo video, anche se comunque la voce è andata via per via del fatto che ho urlato come uno sesso alla partita di mio figlio, quindi wow! Però volevo assolutamente montare questo video con prove jeans, perché l'avevo promesso, era un video comunque ed etica, un video che da tanto tempo che volevo fare. Quindi tantissimi jeans da Zara e da Mango, non ci fermiamo, andiamo oltre perché ho salvato anche le informazioni se non diventavo pazza. Primo modello, jeans cropped a campana, in tessuto flare ovviamente, in tessuto leggermente elasticizzato, a vita media, urlo a campana ma senza cuciture. È uno dei miei modelli preferiti, nonostante non ci sia la cucitura, forse è per quello che riesco a indossarlo solo con le décolleté e solo con i sandali, quindi primavera, estate, forse anche comunque in autunno. Non riesco, nonostante l'abbia visto, a metterlo con i tronchetti, ma non lo escludo, a meno che non siano elasticizzati. Non lo so, mi sembra che mi taglia la figura. Ho comunque fatto il video anche al prezzo, alla taglia, al modello, per non sbagliare, perché altrimenti rischiavo di impazzire. Passiamo al secondo, considerate che ho messo i numeri, perché così nell'info box vi trovate link diretti ai capi. Io per questo jeans mi sono regata da Zara, poi indosso l'ho bucciato, forse il colore, forse il modello, non lo so, forse l'avevo comprati da Mango, un modello simile, quindi l'ho lasciati lì. Questi sono gli Air Eyes Slim Mom Leg Uncle Comfort, e ho letto tutto. Jeans a vita alta, con cinque tasche, effetto slavato, chiusura frontale, con certiere e poltone metallico. Mi stavo impicciando. Carino, mi piace anche il fatto che sia comunque corto alle caviglie, da mettere comunque con le decolletè, perché lì sotto il tronchetto non c'entra. Quindi per me lì, decolletè o sandalo, punto. Non voglio vedere a cozzaglie, o addirittura dentro ai stivali. No, no e anche no. Comunque è un modello che sta bene a tutto, perché è molto morbido, molto confortevole. Poi ho cercato di fare le riprese da vicino. Questo è sempre lo stesso, in una colorazione più slavata, quindi sempre l'iRise Slim Mom Leg. E mi piaceva provarlo in diversi colori, perché ho visto che c'erano cinque varianti di colori. E la mia mente malata ha elaborato di fare un video, di far vedere le varianti di colori di ogni modello. Non solo per quanto riguarda il pantalone, ma anche gli altri capi. Perché comunque la mia mente viaggia. I colori, i colori, i colori. Credo che questo ci fosse anche nero, quindi cinque colori. Probabilmente blu scuro, sì. Io questo modello, strano ma vero, l'ho preso in e-crew. E l'avete visto appunto su un reel di Instagram, che ho girato stamattina. Mi piaceva tantissimo e l'ho preso. Non lo so, perché a volte giorni diversi... Lo mostro come se non ci fossero domani. Continuo comunque a farlo vedere. Perché è proprio per questo, come dicevo, che mi ero recata da Zara. E lì mi è venuta l'idea di fare il video sui jeans. Spero che la mia voce non sia fastidiosa. Ditemelo. Così continuo. Comunque mi avvicino sempre con la videocamera per far vedere sia il colore, quindi un jeans slavato, sia il modello e l'altezza della vita. Non tutti comunque amano questa altezza qui, la vita alta, come non tutti amano anche i jeans a vita media. Dipende. Altro jeans, questo è uno skinny, molto carino, molto stretto, di un colore scuro. Anche questo è in cinque versioni di colore. Non mi è piaciuto per via delle tasche. Hanno una specie di impunturina che non mi faceva affatto impazzire. È comunque molto stretto e corto alle caviglie. Ovviamente vita media e corto alle caviglie, come dicevo, ed è un effetto slavato, anche se scuro. Cerniera sempre frontale, ma è inutile che leggo perché la maggior parte dei miei jeans, perlomeno io, li prendo con cerniera frontale. Io non ricordo di aver preso mai jeans, forse negli anni 90, non lo so, non me lo ricordo. Ma i pantaloni. Qui sto facendo vedere il fatto e il motivo per cui li ho lasciati lì. Questa piccola impunturina sul jeans che a me non piace. È una specie di fossetta sulla tasca che detesto. Non lo so, non mi piace l'effetto che faceva le tasche, quindi lo lasciate lì. Buono il prezzo perché siamo sui 25,95 e sono andata tra i 25 e i 39 euro. Altro jeans, questo è un jeans paper bag, lo chiama comunque effetto carota, molto carota. Che nonostante fosse, no, forse ho provato una 34, mi stava lento in vita. Ho dovuto prendere una 32 e non mi piace l'effetto carota, sinceramente. Troppo elasticità, troppo, scusate, ricciato in vita, quindi non lo amo. C'è l'orlo con risvolto, non so se l'ho lasciato così. Vabbè, sempre la chiusura frontale che me lo sono appuntato a fare, fa pure rima. Questo anche è 29,95, comunque tra le 25 e le 40, le 39 euro. Infatti questo, come dicevo, 29,95. Ah no, l'ho provato nella taglia 32. Beh, mi meraviglio del fatto che allora sia comunque lento in vita. Meraviglio. Questo invece è un jeans con i bottoni frontali proprio belli grossi. Mi piaceva sul davanti, mi piace il fatto che sia cropped. Questo è un wide leg, quindi gamba larga, vi stanno comunque lenti. Cropped anche questo, vita alta, come dicevo. Gamba larga, tasche però qui sono applicate sul fronte particolari. Il motivo per cui non ho scelto questo jeans e lo boccio è che schiacciano, schiacciano, schiacciano il lato B. Si è capito? Non lo so, fanno proprio un brutto effetto, perlomeno su di me. Probabilmente ad una donna curvi, secondo me, potrebbe andare. Nella colorazione poi blu scura, come la sto indossando io. È da vedere su una donna curvi, magari contiene di più. Non lo so, è contenitivo. Quest'altro invece è un jeans, questo è il mio preferito. È il jeans quello che ho acquistato, avete visto nel video. Che è praticamente quello che ha gli spacchi al finire. Gamba dritta, bellissimo questo jeans. Tessuto rigido però, ragazze. Niente affatto elasticizzato. Una vita media, medio alta diciamo. Mi piace molto l'effetto che dà appunto al lato B. Soprattutto per quello, mi piace la gamba dritta e mi piace il fatto degli spacchi finali. Non so se li chiuderò o meno per il momento, per adesso mi piace che si vede la décolleté. Li ho provato anche con i tronchetti, ma li boccio. Forse avevo la scarpa sbagliata, il tronchetto sbagliato, non lo so. Quindi anche questo, questo l'ho preso, l'avete visto nel real di Instagram. Vi rimando alla mia pagina Instagram, vi lascio tutto nell'info box. Con questa voce meravigliosa, wow. Passiamo ai prossimi. Spero che mi sono incantata. No, mi piacevano veramente tanto che non mi li toglievo più. In effetti. Tra l'altro avete visto come sono vestita minimal col body. Bianco. Proprio perché così riuscivo a provare i jeans. Prendo la rincorsa oggi per parlare. Sì, non me li levavo proprio più. Taglia 34 e anche questi 29 e 95. Ce la farò? Sì. Altro jeans, altra corsa. Questo è un wide leg, quindi vita media. Gamba larga, che sono quelli che mi stanno piacendo. Il tessuto è rigido. A gamba larga extra, abbastanza lunga. Simile ai miei di Stradivarius dell'anno scorso, li metto tantissimo quando indosso i blazer. Perché comunque, ragazze, considerate, vedete, questi vengono di più. E in questi prendo la taglia minore perché li trovo molto larghi, soprattutto le gambe. Però li amo perché li indosso con le giacche blazer. Quindi sono la mia salvezza. Perché con le giacche blazer un po' ampie sopra, se mettessi dei, secondo me no, vedere sotto dei jeans skinny, scusate, io non ce li vedo affatto. Fa troppo effetto cigno. Sinceramente no. Ma non li vedo neanche alle ragazze indossate i blazer così, quelli di Zara o di Mango. Niente, la voce se ne va sempre di più. Altro jeans, questo mi sembrava proprio di una che andava a cavallo. Anche questo è Carot. Carota. Mid-rise. Ankle leg. È un jeans in tessuto rigido, vita media, con cinque tasche, chiusura e cerniera e bottone metallico frontali. C'è una specie di cucitura. Che accompagna la gamba, quindi una cucitura spostata, vedete, mi dà proprio di cavallerizza. Non lo so perché. Poi comunque mi stava lento, nonostante avessi preso la taglia giusta, mi stava proprio lento. Non mi piace, mi fa in forme, mi fa le gambe, secondo me fa un effetto gambe corte. E poi gambe proprio arcuate. Un modello strano che è più strano, eppure due o tre ragazze lo stavano afferrando. Probabilmente a molti di voi piace. A me no perché non lo trovo femminile. Non lo so, mi dà proprio... ma neanche per un uomo una cosa del genere. Al di là che mi piace il fatto che corta le caviglie, bocciato. Stavo cercando di capirne il senso. Non mi piace però, non mi piace quella cucitura storta, alla gamba. E il fatto che faccia appunto le gambe arcuate. Ecco, adesso l'ho detto. Vedete qui mostro sempre il prezzo e tutto. 39,95, ma andiamo oltre. Spero. Mi sono soffermata abbastanza. Altro jeans, sempre wide leg. Quindi mid-rise wide leg. In tessuto rigido a vita media. Cinque tasche. La gamba è abbastanza lunga. È abbastanza larga. Però neanche questi ho preso. Troppo rigidi anche questi. Non accompagnavano la mia figura, sinceramente. Tra l'altro ho preso una 32. Mi sembra anche qui. Proprio perché non volevo che fesse effetto troppo largo. Però sinceramente non mi fanno impazzire, ragazze. Non mi fanno proprio per niente impazzire. Quindi questi li ho bocciati. Li guardavo per cominciare. Anche perché magari a quelle di voi possono piacere. Un po' più morbidi in vita. Un po' più morbidi comunque ai fianchi. Non lo so. Non li trovavo adatti alla mia figura. L'ho visto un po' spenti. Un po' così. Ma probabilmente su di me. Non lo so. Li trovo proprio troppo jeans anonimo. Però questi sono i miei gusti. Quindi ovvio. Da portare però anche questi con i blazer morbidi. Qui anche faccio vedere quanto vengono. 39 e 99. Qui la giacca. Volevo far vedere un pezzo diverso un po' per spezzare. Questa giacca polpuffo. Un po' troppo lunga per i miei gusti. Però stanno andando molto. C'è anche nera. E' questo azzurro particolare che mi piace tantissimo. Peccato che fosse particolarmente lunga. E io non le amo. Perché stanno lungilinea. Mi cade addosso. A me stanno bene quelle un po' più corte. O comunque che arrivano alla vita. Massimo. E che mi danno un movimento. Infatti l'ho bocciata. Però l'ho mostrata lo stesso. Perché so che molti amano la giacca over. In pelle. In ecopelle. O comunque proprio in lunga. Poi anche la cinta. Essendo così lunga. Mi cascava addosso. Camerini di mango. Finalmente da mango ragazzi. Jeans. Wide leg. Qui sono stata più furba. Ho fatto vedere proprio il cartellino. Così vi rendete conto. Belli anche. Devo dire. Jeans di mango. Li adoro. Anche questi sulle 40 euro. Molto bello. Veramente questo jeans. A vita media. E bello anche il colore. Un blu medio. Una colorazione comunque intermedia. Questo è proprio il colore dei jeans che mi piace. Poi fantastico che da mango c'è questo specchio in più. Che puoi muovere. Puoi vedere il capo nelle diverse angolazioni. E cercare di vederti anche dietro. Ovvio che con il telefono in mano non mi sono riuscita a regolare. Questo invece è uno jeans flare. A vita media. Molto bello. Anche questo. In una colorazione leggermente più scura. Comunque proprio jeans. Elasticizzato. La vita come dicevo è media. Quindi non dà fastidio per chi non ama la vita alta. Mi piacciono i flare. È inutile nasconderlo. Belli. 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 Mi piaceva anche il fatto che ci sono questi mega cartellini con i modelli scritti sopra. E anche vedete la figura. Bellina anche questo. Mi piaceva anche il fatto che comunque sottolineava il lato B. Mi sono presa poi quella sciarpa. L'avete vista? E ho deciso di indossare altre cosine. E niente ragazze. Questi altri jeans invece sono a gamba un po' più dritta. Ancora più scuri. Non mi piacciono perché il troppo scuro poi mi smagrisce. E poi trovo che questa gamba dritta vada un pochino ad affusolarsi alla caviglia. Quindi fa un effetto un po' per chi piace no? Che gli dà quell'effetto. Gamba più sottile sì. Per chi come me comunque è longilinea. Ni. Non lo consiglio. Vedete gamba dritta. Il prezzo comunque dei jeans da mango stanno sempre intorno le 40. sulle 40-30 euro. Insomma così. Bellini anche questi. Anche questi invece sono i wide leg. Mi sembra che questi siano comunque a gamba larga. Questi molto carini. Confortevoli. A vita un pelo più alta. Sono riuscita a farvi vedere con l'altro specchio il lato B. Un pelo, un pelo più, più alti. Questi mi piacevano di più. Comunque nell'info box vi lascio tutti i link. Sto continuando a mostrarvi i capi. Carini, veramente carini questi jeans. Vedete wide leg? Quindi gamba larga. E qui ovviamente il prezzo e la taglia che ho misurato io. Che me lo chiedete spesso. Indossandoli è un po' difficile far vedere il cartellino. Comunque wide leg io solitamente prendo una taglia in meno. Non so voi come vi trovate. Io di solito la consiglio perché già casca grande. Qui invece che dire le gonde che stanno andando tantissimo su Instagram. Che sono appunto queste meravigliose gonde lungo di jeans. A me piace più fino al ginocchio. Però vabbè. Ho voluto provarle lo stesso. Un po' più lunghe. Faccio vedere anche il prezzo e la taglia. Solitamente 32-34. Perché magari chi non ha mango vicino si regola. In base a me. Volendo. Carina. Torniamo da Zara. Ho misurato questo jeans. Azzurrino. Che è un jeans. Mom leg. Anche questo è un mom. High rise. Non mi fanno impazzire le tasche. Però questo modello mi piace. Quando poi trovo quello che mi piace sia come mi sta al lato B. Che come mi sta alle gambe. Questo alle gambe mi piace molto. E somiglia a quello di mango. Che avete visto in una storia che poi ho acquistato. Ho afferrato pure delle décolleté per misurarli. Perché altrimenti era difficile farvi vedere. Sempre qui anche taglia 32. Proprio perché mi sembra 32. Proprio perché sono morbidi. Quindi dovete misurarli secondo me. Per vedere bene qual è la vostra taglia. Per quando sono wide leg. Questi li ho comprati. Anche questi. Questi sono a vita alta. E li avevo praticamente venerdì quando sono uscita con Sabrina. Un effetto slavato. Molto belli. Sottolinano molto le curve. E' un pochino più. Come vi posso dire. Leggermente a campana. E' una gamba dritta. Ma poi sul finire a campana. Se guardate le specifiche. Cliccate il link. Sicuramente c'è scritto. E anche questi stanno a 39,95. Un pochino più. Un jeans un po' più sostenuto. Un po' più consistente. Bello. Veramente bello. Questa è la taglia 34. Perché erano già molto belli aderenti. Devo dire a 30 soffocavo. Penso che. Vi sembra che con questi ho terminato. Quindi vi rimando ai prossimi video. Vi rinnovo l'iscrizione. Iscrivetevi a Instagram. E alla mia pagina YouTube. E vi mando un bacio. Buon weekend.